Benvenuti ad un nuovo video di analisi. Andiamo a vedere il Racing 92 contro Clermont, come utilizza lo stesso set piece, quindi gli stessi movimenti, ma nella stessa partita da una forma, uno shape, quindi un set piece, utilizza quattro diverse opzioni, qualcosa da imparare quindi dalla squadra di Finn Russell. In questo caso il numero 12 è il primo ricevitore, 10.14 in asse, il numero 8 corre una linea molto dura, quindi una crash ball, qualora fosse possibile, ma in questo caso la palla va a Clemenzac che attacca l'interno di Delghi. Visto che hanno attaccato in quella porzione di campo, Delghi rimane più stretto e in questo caso la scelta del passaggio non è per Clemenzac, come nel caso precedente, ma bensì è per Imoff largo negli ultimi 15 metri. C'è tanto spazio, Sealy gioca di nuovo sulla seconda linea d'attacco e Imoff quindi ha la possibilità di correre. È importante anche come si muove Spring intorno, andando a sinistra e offrendo un'opzione, e poi bravi veramente qui a muovere il pallone ad avanzare tanto, poi purtroppo perdono palla grazie al gran placaggio di Raka del Clermont, tutta la linea dei tre quarti tocca il pallone, eccetto per il numero 14 Wade. Ci sono poi altre due occasioni in cui utilizzano lo stesso set piece, ma in questo caso invece vanno a giocare nel canale dell'apertura del 12 in quella parte di campo, andando prima con Budon numero 8 contro Fritz Lee, e in questo altro caso invece, sempre Sealy, prima linea d'attacco, la palla non va sulla seconda linea d'attacco sul numero 10, ma bensì al 14, però la lettura difensiva di Mohal e Plisson è ottima e quindi viene riportato indietro. Quattro opzioni utilizzando lo stesso set piece, qualcosa di interessante nello sviluppo del gioco. Per questi altri video potete iscrivervi, abbonarvi al canale.